Bene ragazzi, questo video comincia con una domanda. Come si fa a capire se un punto appartiene ad una retta, appartiene ad un piano o appartiene ad una superficie sferica? Allora, l'idea è prendi le coordinate del punto e sostituiscile, ok? In tutti e tre i casi. Potrebbe non essere banale, infatti noi adesso facciamo semplicemente esercizi per capire se ciò ha senso oppure no. Quindi prendiamo ad esempio un punto, che poi sarà quello che prenderemo sempre, e una retta. Consiglio, la retta è sempre meglio espressa in parametrica, quindi in questo caso se lo ha in cartesiana poi mi dite cosa avviene. Però cercate ogni volta che vedete una retta in forma cartesiana di metterla in forma parametrica. E allora ho x uguale a t, y uguale a 1 meno 2t e z uguale a meno 1. Beh, cosa devo fare per chiedermi se il punto appartiene dalla retta? Vado a sostituire x, y e z nell'x, nell'y e nella z della retta. Quindi mi dite cosa viene? Allora, dai, x fa 0, quindi viene 0 uguale a t. Poi 2 uguale a 1 meno 2t e poi meno 1 uguale a meno 1. Allora, meno 1 uguale a meno 1? No, non fa 0. No, non fa niente. Meno 1 uguale a meno 1 vuol dire che va bene. Ah, sul porti di là viene 0 uguale a 0. Attenzione che molti pensano, è l'ora di scrivere lì, t uguale a meno 1t. Ragazzi, quello lì va bene, significa che va bene per ogni valore di t. È un sempre. E non si tocca. La prima riga dice che t vale 0, quindi t vale 0, ok? Ho trovato il valore di t. Vado a sostituire il valore di t qui dentro e mi viene un 2 uguale a 1, che è una cosa falsa. Una cosa falsa distrugge completamente un sistema e quindi il punto semplicemente non appartiene alla retta. Come faccio invece, ragazzi, a trovare un punto che appartiene alla retta? Un esercizio potrebbe essere questo. Beh, a parte che dovrebbe venire tre cose verdi. Tre cose verdi significa ok. Quindi magari dovremmo cambiare il valore della y affinché sia giusto. Mi sapete trovare a mente il valore che deve avere la y, magari, che è la riga che mi ha dato problemi, affinché questo punto appartenga alla retta? Uno. Allora, noi facciamo così. Visto che ci chiediamo questa cosa, ci chiediamo qual è il valore della y, ok? Chi deve avere questo punto affinché appartenga alla retta? È una domanda. Una sorta di... Boh, poi verrà un'equazione. Quindi vado a sostituire e viene 0 uguale a t. k uguale a 1 meno 2t, meno 1 uguale a meno 1. Allora, meno 1 uguale a meno 1, va bene. t uguale a 0, l'ho trovato. t uguale a 0, quindi vado a togliere, meno 2 per 0. E come avete già detto, giustamente, il valore di k deve fare 1. Quindi qui, ok? Ho detto, guardate che se k fa 1, allora ho trovato il punto corretto. Tra l'altro, questo punto, sapete che in una retta ogni punto è correlato in modo bionivoca a un valore di t. È il numero di volte che devo partire dal punto iniziale per applicare il vettore per arrivare a questo punto. Ragazzi, da quale t è caratterizzato lui? C'è scritto? t vale? 0. Ok? E infatti questa retta si poteva scrivere, se uno ci guarda, sapete che si può scrivere come un punto più t volte il vettore direzione. Se uno guarda il punto iniziale, era proprio 0, 1, meno 1, il punto questo qua, qui, più il vettore direzione che è 1, meno 2, 0. Ok, quindi questo è un esercizio molto semplice.